Pochi giorni fa un utente nei commenti mi ha chiesto quali fossero le mie previsioni per Bitcoin per il resto del 2023 e per il prossimo futuro. Ho iniziato quindi a rifletterci e pensare a quale appunto potrebbe essere l'andamento e il prezzo che avrà a fine anno, anche se in realtà il tutto è una semplice speculazione, una semplice scommessa. Però tra poco vedremo lo stesso quelle che sono le mie idee e quello che è mio parere a riguardo. Benvenuti tutti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e in questo canale parliamo di finanza personale, investimenti e crypto. Se siete quindi interessati a questi argomenti vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i miei futuri contenuti. Quest'oggi come vi anticipavo nella intro siamo qui per discutere di Bitcoin e del suo prezzo, perché appunto mi era stato richiesto e ho quindi deciso di farci una riflessione. Ovviamente come dicevo poco fa è una scommessa andare a cercare di prevedere il prezzo di Bitcoin, in quanto nessuno lo può sapere e chi vi fa delle previsioni spacciandole per vere è una persona che non dovreste ascoltare a prescindere. Io vorrei semplicemente fare un ragionamento sull'andamento che ha avuto negli ultimi periodi Bitcoin e su cosa sta facendo, perché secondo me ha avuto dei movimenti particolari che sono assimilabili ad altri tipi di strumenti azionari o comunque strumenti finanziari e che meritano appunto una riflessione. Nell'ultimo periodo infatti siamo colpiti da quella che è definibile come una crisi bancaria, infatti sono fallite un sacco di banche a catene, vi lascio anche qui in alto a destra il mio video in cui parlo dei fallimenti delle ultime due banche, ma appunto il mio video è di una settimana fa e già c'è un'altra banca che viene data per fallita, anche se in realtà non è così e tra poco ve lo spiego. Però appunto è per farvi capire che in questa situazione di incertezza in molti stanno avendo paura, in molti vanno a vendere le azioni che posseggono delle varie banche perché appunto non si fidano, in molti vanno anche a prelevare, quindi le banche, anche quelle grosse, sono in difficoltà rispetto a una bankran, che appunto vuol dire una corsa agli sportelli e è una situazione che mette in difficoltà anche la banca più liquida e più solida. A partire dal 2008 le banche hanno dovuto prendere delle misure particolari per fronteggere delle situazioni di crisi, possiamo per esempio parlare di tutte quelle che sono le regolamentazioni poste grazie ai comitati di Basilia, che ne sono tre in totale, e vanno appunto a disciplinare il fatto che le banche debbano possedere dei precisi coefficienti di capitale, quindi devono avere un ammontare minimo rispetto a quelle che sono le loro attività e le loro passività, per diminuire il rischio della loro attività, cosa che in realtà viene applicata principalmente in Europa, infatti le banche americane non rispettano quasi per nulla questi standard e appunto sono molto più rischiose, permettono ovviamente di ottenere dei guadagni superiori perché appunto non dovendo tenere del capitale liquido fermo per fronteggere le situazioni di emergenza possono investirli e quindi aumentare i loro guadagni, ma allo stesso tempo sono più rischiose. E questo porta al fallimento di alcune banche come SVB che abbiamo visto poco tempo fa, First Republic Bank che stava fallendo anche questa negli ultimi giorni, e poi Silvergate. Silvergate in realtà è un discorso un po' diverso perché è una banca che si occupa di cripto, quindi quando si è sovraesposta in quel settore il rischio aumenta in maniera esponenziale come potrete immaginare, ma ultimamente è stata presa di bina anche Deutsche Bank che come sapete è una banca che ha veramente uno storico ultra decennale, è una banca importantissima e che è paragonabile direi ai livelli di Credit Suisse. Credit Suisse che ormai è stata acquisita da OBS come vi dicevo nello scorso video, la notizia è poi stata confermata dopo poche ore che il mio video era stato rilasciato e questo appunto ha permesso agli azionisti di Credit Suisse come vi anticipavo nello scorso video di non perdere tantissimo sul loro valore, però si è scatenata una grossa faida possiamo dire per quanto riguarda gli obbligazionisti e i T1 che appunto sono quegli obbligazionisti che comprano le azioni più rischiosi in assoluto della banca per ottenere dei guadagni superiori a chi va ad acquistare delle obbligazioni garantite o delle obbligazioni ordinarie, fatto sta che si espongono ad un rischio maggiore, infatti in caso di fallimento della banca loro non vengono rimborsati e fin qui è tutto normale, però sono stati rimborsati tra virgolette gli azionisti che appunto possiedono le azioni e in base al numero di azioni che avevano per esempio ogni 8 azioni, adesso non ricordo non vorrei dire cavolate, per ogni 8 azioni che si possedevano di Credit Suisse veniva data in cambio un'azione di UBS e in questo modo tutti gli azionisti di Credit Suisse hanno sì visto una grossa verità ma non l'azzeramento del capitale come gli obbligazionisti. E questo quindi ha portato a preoccuparsi anche a quelli che erano gli obbligazionisti ai T1 delle altre banche, in particolare quelli di Deutsche Bank erano preoccupati e Deutsche Bank per dimostrare appunto la sua salvabilità ha deciso di rimborsarli tutti appunto mostrando serietà e anche una disponibilità di liquidità non indifferente e questo è servito un po' a calmare gli animi sul mercato, infatti Deutsche Bank aveva perso quasi il 10% in un singolo giorno sul mercato e poi entro fine giornata ha recuperato parecchio. Però come ben sapete il sentimento degli investitori nel momento in cui è negativo può generare grosse perdite e vendite allo scoperto e cose di questo tipo. E in tutto questo Bitcoin come si è mosso? Stranamente Bitcoin mentre le banche fallivano è schizzato verso l'alto ed è una cosa che non era mai successa prima, infatti come ben sapete negli ultimi periodi Bitcoin si è mosso in maniera allineata rispetto a quelle che sono i settori tech, i settori azionari quindi i più rischiosi e si muoveva possiamo dire in leva, infatti nel momento in cui il settore tech fa un più 5% Bitcoin fa un più 10, un più 20 e così via. C'è sempre un fattore di leva perché è come sapete più rischiosa, ci sono meno investitori e un mercato totalmente diverso e quindi si muove anche in maniera differente. Fatto sta che di solito quelli che sono i fattori di spinta per il mercato azionario e quelli per il mercato cripto bene o male coincidono sempre. Infatti come vi dicevo se il mercato sale le cripto salgono, se il mercato scende le cripto scendono. Ed è questo che ultimamente aveva portato molti investitori a riflettere, a dire ma che senso ha se vado a investire in cripto quando investendo in azioni sto facendo la stessa cosa ma mi prendo anche un rischio inferiore alle cripto. In questo senso non mi stanno proteggendo, non mi stanno dando nessun valore aggiunto semplicemente come fare un investimento in leva che potrei fare su un qualsiasi broker. Ed è una riflessione a cui stavo anch'io dando ascolto nell'ultimo periodo naturalmente senza agire in prima persona perché non vorrei andare a generare perdite su quelli che sono gli investimenti in cripto, però allo stesso tempo mi sembrava una cosa abbastanza logica. Fatto sta che Bitcoin nell'ultimo mese si è mosso in maniera totalmente opposta rispetto a quello che è lo storico dei suoi ultimi due o tre anni in cui vi stavo dicendo poco fa che appunto vandava a replicare quello che era il risultato del mercato azionario. Andiamo quindi adesso a vedere cosa sta succedendo su Bitcoin, come si è mosso per poter fare un confronto e poi facciamo una piccola previsione su quello che potrebbe essere il futuro che è da prendere con le pinze perché è una semplice scommessa. Quindi come ogni scommessa il 50% di essere vincente e il 50% di essere perdente. Ok eccoci qui, siamo davanti al grafico di Bitcoin. Vi faccio vedere questo e non quello più avanzato perché lo vedremo tra poco ma serve per avere proprio una visuale sull'ultimo mese. Qui come vedete Bitcoin stava lateralizzando, cosa che ormai fa da parecchio tempo. Qui si muoveva intorno ai 22, poi c'è stato un piccolo crollo e infine dal 12 marzo in poi contro le aspettative di chiunque è iniziato a salire parecchio passando dai 19.000 e arrivando a toccare addirittura i 26.000. Adesso siamo poco sotto la cifra dei 26.000 guardo il prezzo di Bitcoin in euro per comodità anche se molti preferiscono in dollari però appunto lo guardo in euro perché non utilizziamo gli euro e come vedete adesso sta leggermente perdendo terreno però ci manteniamo sempre intorno ai 26.000 euro. Se ci spostiamo sull'oro per vedere un confronto notiamo che il grafico è praticamente lo stesso. Infatti a partire dal 12 marzo quando le banche hanno iniziato a fallire in particolare parliamo di Silvergate e First Republic Bank e SVB il mercato si è ripreso. Poi la situazione di Credit Suisse arrivava circa una settimana dopo quindi intorno al 19 marzo e ancora qui c'è stato un'ulteriore salita. Poi c'è stato un po' un movimento di lateralizzazione in particolare adesso siamo più o meno allineati al prezzo che c'era dopo il fallimento di Credit Suisse. Possiamo quindi notare sovrapponendo i grafici che c'è un movimento praticamente identico tra oro e Bitcoin e questa appunto era una cosa che non era mai successa però andando ad analizzare anche il movimento del Nasdaq 500 vediamo che più o meno tende a seguire anche lui questo pattern infatti ha avuto una crescita ovviamente molto differente perché nel momento in cui comunque ci sono i crolli delle banche qui abbiamo un settore azionario che reagisce in modo differente. E analizziamo il Nasdaq perché appunto dovrebbe essere quello che è più simile a Bitcoin dato che è composto da quelle che sono le aziende tech che quindi solitamente sono anche investite in Bitcoin e in generale sono simili al suo prezzo. Se invece andiamo a guardare un indice che indica quello che è il mercato vediamo che nell'ultimo mese ha perso. A differenza di Bitcoin che è salito, a differenza del Nasdaq che è salito l'S&P 500 che quindi è l'indice che contiene tutte le azioni di tutti i settori ha perso e questo ci fa capire che Bitcoin potrebbe aver invertito quello che è il suo movimento infatti tutti da sempre lo definiscono come l'oro digitale ma effettivamente non si è mai comportato come oro digitale in realtà non si è mai comportato nemmeno come oro fisico quindi come quella risorsa che nei momenti di incertezza, nei momenti di crisi dovrebbe reagire e quindi andare a bilanciare il portafoglio ecco questo non l'ha mai fatto perché appunto si è sempre mosso come il settore tech cosa che in realtà possiamo dire che sta continuando a fare dato che il movimento tra settore tech e Bitcoin è molto simile però in questo momento anche l'oro si è affiancato e quindi ci dà l'impressione che sia simile al Bitcoin infatti poi se andiamo a vedere il risultato di mercato siamo sotto in questo momento se invece andiamo a guardare un risultato più lungo in particolare negli ultimi tre anni vi faccio affiancare questi tre grafici e partendo dal grafico dell'S&P 500 vediamo subito che qui si parte dal 2020 poi qua continua a scendere la pubblicità ma vabbè qui partiamo dal 2020 c'è subito il crollo del Covid e poi abbiamo il recupero fino ad arrivare i massimi che sono intorno a fine 2021 per poi scendere e affrontare la crisi che stiamo affrontando adesso se andiamo a guardare il Nasdaq vediamo che il movimento è molto più ampio infatti la fluttuazione è maggiore e possiamo anche analizzare il movimento percentuale che quindi parte dai minimi di marzo per toccare i massimi novembre 2021 abbiamo un 141% di guadagno andiamo invece a guardare Bitcoin per vedere che anche qui il crollo su Bitcoin è stato inferiore perché appunto guardate quanto era basso Bitcoin nel 2020 era a meno di 10.000 euro quindi c'è stato anche poco movimento però se andiamo ad analizzare comunque da questo che è il suo punto minimo a questo che è il massimo abbiamo un rendimento abbastanza differente quindi possiamo considerarlo appunto come un movimento a leva di quello che è il Nasdaq stessa cosa per l'SP500 che appunto sarà più conservativo dato che contiene aziende anche di altri settori ovviamente c'è una crescita ma si parla nell'ordine del 116% quando il Nasdaq era 141 e Bitcoin oltre il 1300% questo per evidenziare che appunto nonostante il fatto che ci siano molte persone che continuano a sostenere che Bitcoin sia l'oro digitale Bitcoin sia il nuovo oro e così via e anche se ci siano molte analogie come il fatto che Bitcoin sfrutti il modello stock to flow quindi il fatto che con gli halving ogni anno viene estratto un piccolo pezzettino di Bitcoin e si aggiunge a quella che è la supply a differenza per esempio del dollaro che viene stampato e quindi si crea inflazione e così via Bitcoin come l'oro non può subire inflazione o comunque ne può subire veramente pochissima perché ha una supply limitata infatti per l'oro la supply è limitata a quello che esiste sulla terra e per Bitcoin la supply è limitata a 21 milioni come sappiamo ed è per questo appunto che si pensa che Bitcoin possa essere come un oro invece non è così perché appunto la gente nel momento in cui vede i mercati crollare non si fida di andare a investire su un asset rischiosa come Bitcoin ma preferisce rifugiarsi sul classico oro che da migliaia di anni dà sicurezza alle persone questo può essere un fattore psicologico perché in realtà Bitcoin potrebbe sicuramente funzionare come oro soltanto che dà meno sicurezza a tutti gli investitori infatti quando crollano le crypto falliscono gli exchange e cose di questo tipo la gente le vede malissimo e rispetto a chi ha un mattoncino d'oro in casa non c'è confronto l'oro sarà sempre lì anche se poi venderlo è abbastanza difficile bisogna andare a compro oro, ci sono commissioni e così via però dà sicuramente una sicurezza maggiore rispetto a che avere un asset di cui molte persone non sanno nemmeno a cosa serva in poche parole quindi per quanto riguarda quello che è il mio parere sicuramente in ultimo periodo stiamo vedendo delle analogie tra Bitcoin e oro ma questo non vuol dire che continueranno in futuro a me piacerebbe se Bitcoin diventasse appunto analogo all'oro con i movimenti che diventasse davvero l'oro digitale ma non è assolutamente così in questo momento Bitcoin si muove semplicemente come un'azienda tecnologica ma con una leva maggiore quindi con fluttuazioni maggiori perché appunto la capitalizzazione è inferiore a quello che è il mercato americano semplicemente quindi le variazioni sono per forza inferiori cioè sono superiori, ho sbagliato e questo ci porta appunto a vedere dei grossi scossoni di mercato anche da un giorno all'altro si può vedere un più 10%, più 20%, meno 20% e così via perché appunto è un mercato anche che si può più manipolare non è regolamentato e questo rende molto più difficile la questione di osservarlo come un oro digitale che quindi è l'asset tra virgolette, tra molte virgolette, più sicuro di tutti quindi se bisognesse fare una previsione verso fine anno la previsione non so quanto potrebbe essere positiva dato che appunto il settore bancario condiziona pesantemente il settore tecnologico che condiziona pesantemente Bitcoin e quindi a partire dal settore bancario che è in una grossa crisi cosa succede? che secondo me dato che sono in grossa crisi andranno a ridurre quelli che sono i prestiti verso magari le start-up o comunque le aziende tecnologiche sono quelle un po' più dischiose quindi contraendo i prestiti le aziende potranno investire meno quindi crescere meno e Bitcoin dato che agisce solitamente come le aziende tech potrebbe avere difficoltà a risalire e molti già stanno dicendo Bitcoin a 30.000, Bitcoin a 40.000 e tutte strave qui ma sono tutte cose sparate a caso non dovete darci ascolto perché ogni previsione è fatta con la sfera di cristallo che non esiste sono veramente previsioni inventate e non hanno senso chiunque vi dice che può prevedere il mercato sta dicendo delle cavolate perché soltanto gli istituzionali gente importantissima con strumenti finanziari incredibili come portali che hanno notizie aggiornate all'ultimo secondo possono fare movimentazioni particolari o comunque avere informazioni prima di noi ma comunque le informazioni poi vengono fuori e di solito la simmetria informativa si colma nel giro di poche ore o pochi giorni non c'è nessuno che può sapere nemmeno con i migliori strumenti nel mondo quale sarà il prezzo di Bitcoin fra un anno perché se ci fosse un missile che parte dall'Ucraina non lo so in un altro paese scoppia una nuova guerra e tutte le previsioni sono sbagliate quindi ci teniamo a precisare questo che fare previsioni lascia sempre il tempo che trova però possiamo fare dei ragionamenti come quello che ho cercato di fare io cercano di essere il più oggettivo possibile e andare a capire quello che potrebbe essere il futuro del mercato che secondo me in questo momento è un mercato molto difficile molto imprevedibile ma soprattutto un mercato che non darà grosse gioie almeno nel breve termine poi se le dovesse dare non sarò qui a lamentarmi anzi spero che le mie previsioni siano troppo pessimistiche quindi invito voi a fare ovviamente le vostre valutazioni se state valutando non so di investire in qualcosa o comunque di mantenere i vostri investimenti perché ascoltare il guru che vi dicono queste cose non ha veramente senso è meglio appunto fare di testa propria quindi io vi ringrazio per aver visto il video fin qui spero che vi sia stato d'aiuto e che io vi abbia dato delle informazioni che magari non avevate che quindi possono aiutarvi che magari potete anche approfondirle sui vari siti e andate a osservare siti più serie ecco non canali di fuffa guru e niente come dicevo poco fa io vi ringrazio vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto e vi è stato d'aiuto un commento se avete delle domande o dei chiarimenti che volete su questo video o richieste per video futuri o rispondo sempre il prima possibile e realizzo molto volentieri i video che mi richiedete e niente ci vediamo al prossimo video statemi bene ciao 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 ciao